salve a tutti sono miqweb e benvenuti in un nuovo unboxing mi è arrivato questo bel pacchetto andiamo a vedere cosa ci sarà mai dentro apriamo il pacchetto con molta calma ho atteso questo pacchetto con molta ansia già si intravede che cos'è che cos'è essi sono le famose lampade della philips e cosiddette cui facciamo un unboxing molto semplice queste sono le hui personal wireless lighting sono la prima serie erano in offerta per 140 euro su amazon prezzo ufficiale 190 200 180 quindi come vediamo il pacco bello nero qui ci sono c'è il qr coat per vedere le scritte prodotto se giriamo la rotellina molto interessante tipo un gioco per bambini si può cambiare il colore della lampada infatti cosa sono le philips hui sono delle lampade che permettono di cambiare il colore qui è il set di inizio come vedete sono tre lampade da e 27 apriamo la 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 protezione non si apre ecco qui ho aperto molto elegante mi mi ricorda un po' le confezioni della apple molto elegante tutto bello preciso molto raffinato questo è il cuore delle lampade la hui bridge praticamente il controllo attraverso internet per gestire le lampade questa è una lampada e sinceramente devo dire che abbastanza pesante molto pesante materiale sembra molto ben fatto per 140 euro vorrei dire insomma direi che peserà sui 30 40 grammi insomma una lampada molto pesante anche molto bella poi cosa abbiamo qui abbiamo il solito cartoncino delle installazioni delle piccole indicazioni come solito quindi non ci serve andiamo qui a sinistra sinistra cosa abbiamo in questo piccolo pacco abbiamo il cavo per collegarci a internet via lan e qui cosa abbiamo e qui abbiamo praticamente l'alimentatore della della nostra della nostra bridge lo apro un attimino molto veloce tutto ben confezionato colore bianco bello è come un un carica batteria in poche parole molto semplice molto cavo molto lungo devo dire penso che sia quasi sicuramente più di un metro e mezzo ok vediamo ancora queste come si apre qui prendo un'altra lampa in mano mamma mia ho paura che mi cada rotonda già dato l'impressione da una bella impressione per niente diciamo che l'inboxing finisce qui e vi ringrazio per l'ascolto niente di speciale vi farò vedere nel prossimo video come come si installano e quali sono le funzioni insomma 140 euro sono delle lampadine molto molto costose però ne vale la pena se avete 140 euro da buttare via è un regalino molto interessante nel prossimo tutorial vi farò vedere cosa che effetti si possono ottenere vi ringrazio per l'ascolto alla prossima grazie 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 grazie